All'interno di questo video voglio sfatare tre falsi miti che dicono la maggior parte delle persone che vendono software di trading e che vogliono appioppare il proprio software di trading a qualunque tipologia di persona Ciao ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video oggi voglio parlarvi di tre falsi miti che gironzolano per il web da tutte quelle persone fuffaldine che vogliono vendervi il loro software magico per fare soldi con il trading e vi dicono alcune cose che poi vi portano nella maggior parte dei casi ad essere sprovveduti e ovviamente a bruciare tutto il conto in un ben che non si dica Io ragazzi, per chi ci conosce, a noi non interessa più fare i software da tutti quello che a noi ci interessa è essere sinceri, dire le cose come stanno e all'interno di questo video scoprirai alcune cose che ti faranno forse incazzare ma che ti apriranno gli occhi verso quello che veramente sono gli expert advisor alcune delle cose che ti dirò all'interno di questo video potenzialmente sono anche contro il mio business perché potrei dirti come fanno gli altri o comunque come fanno la maggior parte delle persone che vende software potrei dirti una serie di cose che in realtà non sono assolutamente vere però è giusto secondo il mio punto di vista essere trasparenti e prima di chiedere dei soldi a delle persone dire le cose come stanno un po' come i videocorso di formazione, se io vendo un videocorso non posso dirti che con il videocorso di formazione diventerai ricco se non applichi quello che c'è all'interno del videocorso se non ti sbatti, se non hai un mindset vincente, se non hai un mindset da imprenditore non ti servirà a nulla un videocorso di formazione quindi mi sento di fare queste premesse visto che il nostro business, il nostro core business è, a parte l'affiliate marketing e le diverse aziende che ho io è proprio quello di andare a promuovere, vendere, sviluppare Expert Advisor in software di trading automatico mi sento che devo fare questo video e l'ho già detto all'interno di altri video ma volevo farne uno specifico allora andiamo a vedere quali sono questi tre falsi miti queste tre balle giganti che vi raccontano lì fuori per appiuparvi colunque cosa anche se non avete un mindset da trader anche se non avete tanti soldi sul conto anche se eccetera eccetera primo falso mito è che un Expert Advisor lo metti su un conto trading e te lo dimentichi ragazzi, devo dirvi purtroppo, ok, vi direi il contrario così magari comprovate di più non funziona in questo modo, cioè non funziona così un Expert Advisor è uno strumento e come tale deve essere considerato ora, come qualunque tipo di strumento, un computer, un qualunque tipo di strumento in realtà lavorativo deve almeno essere controllato quindi non esiste la magia dell'install il software e divento ricco non esiste la magia dell'install il software e me lo dimentico poi fra due anni controllerò e ci saranno i soldi perché ci sono tutta una serie di attenzioni che dobbiamo dare a questi software come per esempio controllare se la WPS è ancora attiva quindi entrare nella WPS più volte a settimana per controllare se hanno fatto degli aggiornamenti e ci hanno staccato tutto ora, è assolutamente reale che un software di trading ti permette di fare trading in modo totalmente automatico e che apre le posizioni per te anche quando dormi o stai al lavoro che ti semplifica la vita perché in realtà non diventi schiavo di un grafico, di un cellulare, di un computer non devi stare lì a romperti le scatole H24 quindi realmente ti semplifica tutto il processo di trading ma che te ne dimentichi, non è assolutamente così quindi non dite, se guardate questo video, non dite cavolate alla gente perché la gente investe i propri soldi i propri soldi sono lavorati nella maggior parte dei casi è necessario dire la verità alla gente e una di queste verità è che i software qualunque tipo di software, chi più chi meno adesso vi tiro un po' le specifiche per esempio dei nostri software hanno bisogno di essere controllati alcuni devono anche essere gestiti più volte al giorno, ok? vi faccio un esempio noi abbiamo quattro software di cui sono tre per Conti Live e uno per le proprie firme e di questi tre per Conti Live due sono per innanzitutto conti più grossi non per conti da 1000€ conti a partire dai 3000€, dai 5000€ e uno per conti da 1000€ ora tra questi tre software ne abbiamo due che devono essere innanzitutto venduti a persone che hanno più esperienza e che sanno come gestire certe situazioni, ok? perché il software non ha emozioni e per la maggior parte delle volte se ne sta sbattendo di quanti soldi voi avete sul conto almeno che non avete impostato uno stop loss almeno che non ci siano tutta una serie di parametri come per esempio in uno dei nostri software sono una serie di filtri che permettono al software di essere quasi un umano però anche quello ha bisogno di una piccolissima gestione cioè la mattina un software notturno per esempio software notturno è fatto per persone che non hanno esperienza di trading per persone che hanno poco budget puoi partire con 1000€ installare il software e l'unica cosa che semplicemente devi fare è assicurarti che la mattina quando ti alzi ci siano tutte le posizioni chiuse se ci sono notizie durante il giorno notizie che possono portare appunto volatilità nei mercati e che possono portarti a rischiare il tuo capitale semplicemente devi chiudere le operazioni ok? ma è una cosa minima ma comunque deve essere gestita non puoi dire alla gente no guarda è tutto automatico non devi fare niente te lo scordi chiudi tutto si poi quando lo riapri non trovi più il conto perché così funziona ok? quindi questa è una piccola parentesi ci sono invece gli altri due software devono essere gestiti di più semplicemente perché lavorano H24 lavorando H24 si imbatte ci imbattiamo i momenti di mercato di volatilità o i momenti di mercato dove il mercato va giù per una settimana e non puoi stare lì a guardare quindi devi prendere una decisione se hai lo stop loss ok se hai lo stop loss si spegne tutto perdi il 20% il 10% dipende da come lo imposti e poi riparte ma anche lì una piccola gestione ci vuole in base alla strategia hai impostato uno stop loss a meno 200 euro che in realtà sugli input vai in percentuale quindi al 20% quando perdi 200 euro devi mettere la percentuale di quei 200 euro su un conto da 800 quindi questo parametro deve comunque essere cambiato altrimenti continui a prendere lo stop loss al 20% 10 volte al giorno ok? sono delle cose molto 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 semplici in realtà che noi vi spieghiamo una volta che acquistate i software vediamo dei video tutorial dove vi spiegano la gestione ripeto una piccolissima gestione ma comunque deve esserci questa parte umana un po' come degli strumenti automatici all'interno dei magazzini ok? all'interno delle fabbriche c'è sempre qualcuno al controllo qualità perché? semplicemente perché ragazzi vanno in automatico sì ma comunque la parte umana non deve mancare altrimenti non si va da nessuna parte ok? quindi questo è il primo falso mito che installi un software su MetaTrader 4 te ne vai e ti sei dimenticato che hai un conto tra due anni controllerai e troverai dei soldi potresti essere fortunato ma in realtà non funziona così perché MetaTrader 4 si installa sulla WPS la WPS è online a volte queste WPS fanno gli aggiornamenti mandano delle email questi aggiornamenti devi controllare devi entrare nella WPS se si spegne tutto spegne anche il software magari ti restano le posizioni aperte perché non ne puoi aprire di altre e non puoi portare avanti la strategia ora magari detta così in questo video vi sembra una cosa pesante diciamo ma allora il software devo gestirlo così tanto? devo fare tutte queste cose? ragazzi sono due semplici cose controllare la WPS controllare che la mattina per esempio nel caso del software notturno ci siano le posizioni sono già tutte chiuse altrimenti le chiudete a mano poi vi spiegherò il perché nel caso dei software di urni assicurarvi che il software l'estensione del software per le news funzioni e si è impostato nel modo corretto quindi questa è la prima cosa non ti dimenticherai di avere un conto non diventerai ricco sfondato non farai percentuali gigantesche stratosferiche se non hai il budget disponibile e eccetera eccetera falso mito numero due ok? un'altra cosa da sfatare perché vedo veramente lì fuori ragazzi c'è talmente tanta gente imbrogliona che io non so con quale coraggio va a dormire la notte come fa a dormire non si possono perdere soldi con i software di trading io vedo centinaia di persone che sono alla ricerca del software perfetto ora ammetto ragazzi che i nostri software a differenza di quelli che troviamo in giro sono veramente qualcosa di assolutamente migliore agli altri ma non perché voglio farmi la marchettina sarò pure di parte ma perché li abbiamo provati semplicemente abbiamo provato gli altri software abbiamo provato i nostri prima di vendere un software non lo facciamo in un mese conoscevo una persona l'anno scorso che usciva un software ogni settimana e senza testarlo vendevo sti benedetti software io dico ma come fai se non puoi vendere un qualcosa che non è testato che neanche tu puoi dare supporto non sai alla gente che cosa succede motivo per cui poi ha praticamente chiuso il canale ha bloccato la gente e via dicendo perché non c'è onestà in queste cose noi prima di mettere un software a mercato lo proviamo per mesi 6, 7, 8, 10 mesi, 12 mesi dipende dal tipo di software perché poi al momento del customer service quando la gente ci chiede delle informazioni dobbiamo sapere cosa sta succedendo e dobbiamo anche dare delle informazioni che siano necessarie per portare avanti nel lungo periodo i benedetti conti trading ok quindi che i nostri software siano i migliori in assoluto nel mercato italiano su questo non c'è dubbio e ve lo posso assicurare perché tutte le volte che ci sono stati dei momenti critici i migliori che non sto qui a fare nomi perché non posso i migliori che trovate in Italia la gente è venuta con i conti bruciati ok noi abbiamo un sacco di persone che hanno i nostri software che hanno i software degli altri e hanno bruciato i conti ok ora con i nostri software non si possono perdere dei soldi ecco questo era il secondo mito da sfatare con un software di trading non si possono perdere dei soldi vi stavo dicendo ragazzi in realtà non è così non è assolutamente così soprattutto se non ci colleghiamo al punto di prima ovvero la piccola gestione del software quindi vi dicevo vero è che i nostri software sono migliori degli altri e via dicendo per una questione di esperienza perché li abbiamo provati e tutto il resto ma è anche vero che se noi vi diamo dei software e non vi diciamo che cosa dovete fare in alcune situazioni e non vi mettiamo in guardia sul fatto che il software notturno non deve lavorare di giorno se avete poco budget voi bruciate il conto chi l'ha detta questa cavolata che i software di trading con il software di trading non si possono perdere ragazzi il mercato è uguale per tutti è uguale per chi lo fa manualmente è uguale per chi lo fa con un software la differenza sicuramente è che un software non avendo emozioni continua schematicamente a seguire una strategia scritta all'interno del codice del software quindi non si fa prendere dal panico continua per quella linea lì anche nelle situazioni più critiche però ci sono delle situazioni che devono essere evitate e queste situazioni che devono essere evitate possono essere evitate solo dalla persona umana ok quindi il nostro software notturno per esempio è ottimo perché lavora con bassa volatilità lavora di notte dalle 23 alle 8 di mattina di mattina dovete chiudere tutto ah ma hai perdito 10 euro si perdi 10 euro fa niente perché nel 98 per cento delle mattine troverai il conto già con tutte le posizioni chiuse ok soprattutto questa cosa è valida quando ci sono giornate piene di volatilità quindi semplicemente ragazzi controllare noi diciamo sempre controllare il calendario delle notizie se ci sono notizie ad alto impatto spegnete il software e pazienza perdete quei 5 euro quei 10 euro che la mattina vi ritrovate magari in drawdown avete altre 20 mattina in quel mese per lavorare con il software ok sempre per il concetto di lungo periodo cosa che trovate all'interno degli altri video mito da sfatare numero 3 io vi direi sicuramente gli expert advisor vanno bene per tutti cosa voglio dire sono expert advisor che fanno più profitto e che hanno bisogno di una gestione e che fanno più drawdown e che non hanno tutta una serie di parametri di sicurezza ok mentre ci sono dei software che sono più soft che si utilizzano con lo stop loss che si utilizzano per un certo tipo di persone per un certo tipo di conto e di capitale quindi quando trovate qualcuno che vi dice questo software va bene per tutti in realtà ragazzi non è così perché ogni persona innanzitutto ha il suo modo di fare trading c'è gente che ama il martingala gente che non vuole il martingala ci sono persone che amano lo scalper lo scalping persone che invece non amano lo scalping ci sono persone che vogliono avere il controllo che vogliono vedere che il software lavora durante il giorno perché gli piace perché è tutta una serie di motivi mentre ci sono persone che vogliono il software notturno ok perché non vogliono assolutamente rompersi le balle a guardare metatrader 4 che è una cosa veramente una rottura di balle veramente grossa quindi i software vanno bene per tutti non è così ragazzi ci sono persone io vedo gente a volte gli dico guarda secondo il mio punto di vista non dovresti neanche avere un software cioè non dovresti neanche fare trading perché mi dicono delle cose ma c'è una garanzia se perdo dei soldi ma è sicuro al 100% che si guadagnano questi soldi e tutte queste robe qui cioè ragazzi se fate trading dovete capire che state facendo un'attività ad alto rischio ok finish poi se con tutte le nostre linee guida se con tutti i filtri dei nostri software se con la qualità del software se con gli accorgimenti e con i soldi e tutte le altre cose andiamo a diminuire andiamo a portare questo rischio da 100 a 5 sicuramente riusciamo anche a capirci che cambiano un po' le cose ok in più ci sono persone come vi dicevo a livello percentualistico provano sempre a dirvi ah devi fare il 50% devi fare il 30% devi fare va benissimo qualunque tipo di percentuale guardate la cosa con l'interesse composto non guardate la cosa a un mese vedo tanta gente che guarda le cose a una settimana ah ma questa settimana ha fatto 100 euro ah ma questo mese ha fatto 400 500 e beh cosa vuoi cioè stai facendo un part time senza guadagnare niente e tra l'altro con dei depositi veramente 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 bassi ok quindi spero ragazzi che questo video vi sia stato utile ricordatevi falso mito numero 1 i software li metti lì e te li dimentichi falso mito numero 2 che non si possono perdere dei soldi con i software soprattutto se non li gestisci anche quella piccolissima parte e falso mito numero 3 quello che vi ho appena detto ok ovvero che i software sono uguali per tutti e che vanno bene per tutti e che tutti dovrebbero usarli e tutta questa menata qui ci sono persone che non dovrebbero neanche mettere i soldi sul conto trading motivo per cui quando noi vi proponiamo un software e voi venite in chat con me venite in chat con qualcuno del mio team non vi diciamo di acquistare il soldo anzi molte volte io in base alla persona che ho dall'altra parte vi dico ma sei veramente convinto di questa cosa? sei veramente sicuro di mettere dei soldi? perché sappi che il trading è un'attività ad alto rischio niente detto questo ragazzi spero che questo video vi sia stato utile spero che capite anche un po' la nostra sincerità a discapito del nostro business però io quello che vi posso dire è che se appunto acquistate uno dei nostri software innanzitutto avete il supporto che nessuno vi da lì fuori ve lo posso assicurare anzi stiamo anche aumentando le persone all'interno del nostro team per quanto riguarda il supporto vediamo supporto da remoto se avete un problema se non sapete cosa fare vi aiutiamo in certe circostanze vi diciamo tutta una serie di cose che adesso non sto qui a dirvi e tutti gli accorgimenti che noi vi diamo sono gli stessi identici accorgimenti che noi utilizziamo per portare i conti avanti nel lungo periodo quindi se li seguite anche voi vi troverete magari dei conti che nel lungo periodo vi portano profitto e che vi daranno anche delle ottime soddisfazioni in termini appunto di investimento di lungo periodo di breve periodo quello che è bene detto questo ragazzi io vi saluto adesso ci sono tutta una serie di cose interessanti usciranno corsi sul trading da persone certificate tutta una serie di cose interessanti quindi iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina commentate sotto questo video gentilmente così aiutiamo questi video a salire nella cronologia di youtube aiutiamo l'algoritmo e tutte queste robe qui va bene? ciao ci vediamo alla prossima